Signor Presidente, signor Segretario Generale, colleghi delegati, signori e signore, è un onore per me rappresentare l'Italia di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un onore che tuttavia non è leggero come il privilegio, ma pesante come pesante è la responsabilità. Perché noi viviamo in un'epoca complessa, un'epoca fatta di emergenze, di mutazioni continue e non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza, dei principi decantati ma non attuati, delle scelte facili in luogo di quelle giuste. Dobbiamo tornare al senso profondo di ciò che ha dato vita a questo luogo, la comunità delle nazioni e dei popoli che si riconoscono nella Carta delle Nazioni Unite del 1945, nata per trovare soluzioni condivise che potessero garantire pace e stabilità. Sono in fondo due gli elementi che hanno dato un senso a questo luogo. Da una parte le nazioni, che esistono perché rispondono al bisogno naturale degli uomini di sentirsi parte di una comunità di destino, di appartenere a un determinato popolo, di poter condividere con altre persone la stessa memoria storica, le stesse leggi, gli stessi usi, gli stessi costumi in una parola, l'identità. E dall'altra parte l'aspirazione di quelle nazioni differenti tra loro di trovare un luogo nel quale risolvere le controversie internazionali con uno strumento più facile da utilizzare, più difficile da utilizzare, ma decisamente più efficace nei risultati della forza, cioè lo strumento della ragione. Se questi due elementi, la nazione e la ragione, sono ancora il fondamento di ciò che ci muove. Allora noi dobbiamo respingere il racconto interessato e utopico di chi dice che un mondo senza nazioni, senza confini, senza identità sarebbe anche un mondo senza conflitti. E con altrettanta determinazione dobbiamo impedire il ritorno della forza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra di invasione russa all'Ucraina ci racconta esattamente questo. Che di fronte a chi vorrebbe riportarci al tempo delle guerre di dominio e di stampo neoimperialista, del quale pensavamo di esserci liberati nel secolo scorso, la ragione può ancora avere la meglio, e che l'amore di patria e il valore della nazione può ancora essere difeso oltre l'inimmaginabile. Sta a noi, a ciascuno di noi, decidere da quale parte della storia stare in coscienza. Ma non dobbiamo prenderci in giro, perché la posta in gioco è questa, la scelta tra la nazione e il caos e tra la ragione e la prevaricazione. L'Italia ha scelto chiaramente da che parte stare. Lo ha fatto per senso di giustizia, lo ha fatto perché è consapevole di quanto sarebbe difficile governare un mondo nel quale ha avuto la meglio chi bombarda le infrastrutture civili, sperando di piegare un popolo con il freddo e il buio, chi utilizza come arma l'energia, chi ricatta le nazioni in via di sviluppo impedendo di esportare il grano, la materia prima, indispensabile per sfamare milioni di persone. Le conseguenze del conflitto in Ucraina travolgono tutti come in un domino, ma impattano soprattutto sulle nazioni del sud del mondo. È una guerra mossa non solo contro l'Ucraina, ma contro le nazioni più povere. E l'attenzione dell'Italia è rivolta particolarmente verso l'Africa, dove nazioni già provate da lunghi periodi di siccità, dalle conseguenze del cambiamento climatico, si trovano oggi di fronte a una situazione difficilissima anche in termini di sicurezza alimentare, che le espone ancora di più alle instabilità, le rende facili prede del terrorismo e del fondamentalismo. È una scelta creare il caos e diffonderlo. E in quel caos, che produce decine di milioni di persone potenzialmente in cerca di condizioni di vita migliore, si infiltrano reti criminali che lucrano sulla disperazione per collezionare miliardi facili. Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell'immigrazione illegale di massa. Illudono che, affidandosi a loro, chi vuole migrare troverà una vita migliore. Si fanno pagare migliaia di dollari per viaggi verso l'Europa che vendono con le brochure come fossero normali agenzie di viaggio, ma su quelle brochure non scrivono che quei viaggi troppo spesso conducono alla morte, a una tomba sul fondo del mar Mediterraneo. Perché a loro non importa se la barca sia adatta o meno ad affrontare quel viaggio. L'importante per loro è solo il margine di guadagno. È a questa gente che un certo approccio ipocrita in terma di immigrazione ha fatto arricchire a dismisura. Ma noi vogliamo combattere la mafia in tutte le sue forme e combatteremo anche questa. Il punto è che combattere le organizzazioni criminali dovrebbe essere un obiettivo che ci unisce tutti, che investe anche le Nazioni Unite, che investe anche questo luogo. Perché davvero un'organizzazione come questa, che afferma nel suo atto fondativo la fede, nella dignità e nel valore della persona umana può voltarsi dall'altra parte di fronte a questo scempio? Davvero possiamo fingere di non vedere che oggi al mondo non esiste attività criminale più profittevole del traffico di migranti quando proprio i rapporti ONU certificano come questo business abbia raggiunto per volumi di denaro il traffico di droga e ampiamente superato il traffico di armi? Davvero questa Assemblea, che in altri tempi ebbe un ruolo fondamentale nel debellare definitivamente quel crimine universale che era la schiavitù, può oggi tollerare che torni sotto altre forme, che si continui a mercificare la vita umana, che vi siano donne portate in Europa a prostituirsi per ripagare debili enormi contratti con i trafficanti o uomini abbandonati nelle mani della criminalità organizzata? E davvero possiamo dire che sia solidarietà accogliere in via prioritaria non chi ne ha davvero più bisogno, ma piuttosto chi ha i soldi per pagare quei trafficanti e consentire ai trafficanti di stabilire chi abbia diritto a salvarsi? Io penso di no. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte. Con il processo di Roma, che abbiamo avviato a luglio con la conferenza su migrazioni e sviluppo, abbiamo coinvolto le nazioni mediterranee e diverse nazioni africane su un progetto che si snoda lungo due direttrici fondamentali. Sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio da un lato, affrontare le cause alla base della migrazione dall'altro, con l'obiettivo di garantire il primo dei diritti, che è il diritto a non dover emigrare, a non essere costretti a lasciare la propria casa, la propria famiglia, a recidere le proprie radici, potendo trovare nella propria terra le condizioni necessarie a costruire la propria realizzazione. E anche qui bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. L'Africa non è un continente povero. È, al contrario, un continente ricco di risorse strategiche. Detiene la metà di quelle minerarie del mondo, tra cui abbondanti terre rare e il 60% delle terre coltivabili, spesso inutilizzate. L'Africa non è un continente povero, ma è stato spesso ed è un continente sfruttato. Troppo spesso gli interventi delle nazioni straniere nel continente non sono stati rispettosi delle realtà locali. Spesso l'approccio è stato predatorio e ciò nonostante perfino paternalistico. Occorre invertire la rotta. L'Italia vuole contribuire a creare un modello di cooperazione capace di collaborare con le nazioni africane affinché possano crescere e prosperare grazie alle risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, perché l'Africa non ha bisogno di carità, ma di essere messa in condizioni di competere ad armi pari, di investimenti strategici che leghino i destini delle nazioni con progetti reciprocamente vantaggiosi. E così offrire un'alternativa seria al fenomeno della migrazione di massa, un'alternativa fatta di lavoro, formazione, opportunità nelle nazioni di provenienza e percorsi di migrazione legale e concordata e dunque anche integrabile. Saremo i primi a dare il buon esempio con il Piano Mattei per l'Africa, un piano di cooperazione allo sviluppo che prende il nome di Enrico Mattei, un grande italiano che sapeva conciliare l'interesse nazionale italiano con il diritto degli Stati partner a conoscere una stagione di sviluppo e di progresso. Il punto centrale è che noi dobbiamo avere il coraggio di rimettere l'uomo con i suoi diritti al centro del nostro agire. E questo è un principio apparentemente scontato che tuttavia scontato non è più. Non è il nostro tempo. Nazioni vengono invase, la ricchezza si concentra sempre di più, la povertà dilaga, si riaffaccia la schiavitù. Tutto sembra voler mettere a repentaglio la sacralità dell'essere umano. Perfino quello che a uno sguardo superficiale può sembrare uno strumento per migliorare il benessere dell'umanità a un'analisi più attenta rivela i suoi rischi. Pensiamo all'intelligenza artificiale. Le applicazioni di questa nuova tecnologia rappresentano sicuramente una grande opportunità in molti campi, ma non possiamo fingere di non comprendere anche gli enormi rischi che porta con sé. Io non sono certa che ci stiamo rendendo conto abbastanza delle implicazioni connesse a uno sviluppo tecnologico che corre molto più velocemente della nostra capacità di governarne gli effetti. Eravamo abituati a un progresso che aveva come obiettivo ottimizzare le capacità umane e oggi ci confrontiamo con un progresso che rischia di sostituire le capacità umane. E se in passato questa sostituzione si concentrava sul lavoro fisico, così che gli uomini potressero concentrarsi sui lavori di concetto e di organizzazione, oggi è l'intelletto che rischia di essere soppiantato, con conseguenze che potrebbero essere devastanti, particolarmente nel mercato del lavoro. Sempre più persone non saranno necessarie, in un mondo sempre più dominato dalle eguaglianze, dalla concentrazione di potere e di ricchezza nelle mani di pochi. non è il mondo che vogliamo. E dunque io penso che non possiamo commettere l'errore di considerare questo dominio una sorta di zona franca senza regole. Servono meccanismi di governance globale che siano capaci di assicurare che queste tecnologie rispettino barriere etiche, che l'evoluzione della tecnologia rimanga al servizio dell'uomo e non viceversa. serve dare applicazione pratica al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi. Sono questi alcuni dei temi che l'Italia porrà al centro della sua presidenza del G7 nel 2024, ma sono soprattutto questioni che investono la responsabilità delle Nazioni Unite. Sfide enormi che non possiamo affrontare se non prendiamo atto anche dei nostri limiti come Nazioni e nel sistema multilaterale. Per questo l'Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di sicurezza che lo renda più rappresentativo, trasparente ed efficace, che garantisca una distribuzione geografica dei seggi più equa, che rafforzi la rappresentanza regionale, che esca dall'assetto cristallizzato all'esito di un conflitto che si è concluso 80 anni fa, in un altro secolo, in un altro millennio, per dare a tutti la possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente. Su questi e molti altri temi si dimostrerà la nostra capacità di governare il nostro tempo e la nostra capacità di fare quello che in questa sede, il 2 ottobre del 1979, un grande uomo, un santo e uno statista come Giovanni Paolo II ci ricordava, e cioè che l'attività politica nazionale e internazionale viene dall'uomo, si esercita attraverso l'uomo ed è per l'uomo. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie a tutti